salve a tutti i ragazzi benvenuti nell'angolo dello svapolex io sono l'elex 89 e oggi sono qui per portarvi la recensione di un liquido stiamo parlando del shinobi di valkyria ragazzi li liquidi della collezione racing sun collection oltre a questo c'è anche il rui mi sembra quello col drago sayuri quello della geisha poi c'è il kirin che mi sembra che sia quello della tigre e l'attori anzo un altro samurai adesso io non sono molto specifico sulle cose cinesi giapponesi comunque la collezione prevede questi cinque liquidi noi oggi andremo a provare il shinobi questo è un liquido 70 30 ok adesso lo faccio anche vedere così si vede perfetto questo liquido intanto è a 0 2 di nicotina cioè due milligrammi di nicotina un liquido già perfatto perciò io direi di intanto vedere un attimino breve unboxing vedere cosa c'è dentro ma facciamo anche un attimino così ci facciamo presto lo apriamo perciò subito troviamo la bugia il libricino che trovate anche dentro le cose del foglietto illustrativo praticamente dove ci dicono le varie cose attenzione non ingerire del genere poi continuiamo dentro la scatola proviamo il liquido la boccetta guardate faccio vedere a modo valkyrie shinobi bellissimo ok allora ragazzi liquido come vi dicevo prima a 70 30 perciò abbastanza non troppo denso ma un liquido come roma io l'ho già un po sentito c'è subito ti viene al naso un odore di papai e fico d'india che è una cosa certi inebri al naso è una cosa spaventosa è buono molto buono però nonostante tutto dietro c'è quel tocco di freschezza di un po di come si può dire grumato di fatti c'è anche del lime dentro quel tocco di freschezza quella specie di acidulo che gli da quel secondo me aroma in più e quindi secondo me ne vale la pena allora ragazzi come voi sapete io i liquidi li preferivo a zero di nicotina per un semplice fatto che comunque non essendo abbastanza abituato li ho sempre presi a zero di nicotina però me l'hanno consigliato con almeno un minimo di percentuale di nicotina proprio per semplice fatto perché la nicotina gli da quel pizzico di sapore in più che teoricamente riuscirebbe a esaltare ancora di più gli aromi e quindi adesso andiamo subito a vedere allora mettiamo un attimino da parte la scatola io intanto ragazzi ho già cotonato il gun 24 ok sopra la tesla perché la tesla come voi sapete la tesla è diventato il mio il mio drago che respira quindi quindi facciamo un attimino con questa perciò adesso vado subito a bagnare allora iniziamo subito a bagnare sopra le coil ok le coil ragazzi sono le flat le flame adesso non mi ricordo a modo come si chiamano comunque sono quelle praticamente con tutti i filamentini piccolini piccolini sono coil da 0,1 ohm e di conseguenza la tesla come voi sapete vedete la tengo praticamente al minimo perché non c'è bisogno di spingerla oltre con queste con queste coil qui allora continuiamo a bagnare il nostro cotone ok finché non si impregna per bene anche già così ragazzi c'è un odore di papaya di mamma mia cioè di nebria di nebria il naso è una cosa spaventosa ok mettiamocene ancora un po' direi basta perché vedo che sta iniziando anche a uscire da questa parte di qua ok perciò vediamo ok ragazzi inizia a svaporare per bene c'è già così un odore mamma mia un profumo una cosa micidiale ragazzuoli alla vostra e poi rimane è una cosa che veramente c'è quel quel sapore di papaya di fico ti rimane in bocca e poi è buonissimo adesso ragazzi non la sto tirando tanto perché a parte che c'è molto liquido ti arriva liquido un po' scoppiettante in bocca quindi è un po' però apro la finestra così tanto il vapore va fuori scaldiamo pianin pianino comunque devo dire ragazzi che non essendo abituate alla nicotina anche questo piccolo percentuale che è a due in gola rimane a perlomeno a me che non sono magari abituato con i liquidi la nicotina questo tocco di nicotina lo sento lo sento anche abbastanza bene e abbastanza forte però devo dire che a differenza come l'ho provato quando l'ho acquistato di aroma ne ha veramente di più devo ammetterlo ne ha veramente di più e di vapore ne fa ne fa veramente tanto comunque è buono guardate qualche roba un sapore cremoso cioè nonostante sia molto fruttato ti lascia in bocca quel sapore buono dolce molto buono poi quando invece lo mandi giù e tutto quanto senti proprio quel lime zuccherato molto buono, molto buono mi piace ok scusate nebbia via 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 la nebbia via 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 la nebbia via 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 mi piace veramente veramente molto, molto buono ecco che roba io adesso vi metto in un angolo e vi faccio vedere che cappa di nudo che viene a parte lasciate stare la mia camera che vabbè c'è il comodino con le cose della cappa lasciate stare queste cose se guardate qua che fumosità, a parte vabbè che ho le coil che fanno un botto di vapore in più e lasciamo perdere questa cosa che sono coil che alla coppia costano 15 euro l'una se lo viene a sapere la mia capa mi strozza però fanno veramente molto vapore e comunque a differenza del normale filo cantal o comunque fili normali sono più specifiche perché con una box così comunque io mi piace fare molto più vapore che aroma di conseguenza mi hanno consigliato queste coil per avere anche quell'aroma in più che ragazzi ha sbalorditivo cioè è veramente veramente buonissimo e al di là del fatto che ho tirato fino adesso e non ho ancora drippato con la prima guardate il cotone adesso se ve lo riesco a far inquadrare a modo cioè è ancora bagnato nonostante che comunque ne ciuccia di liquido perché è un lavello questo questo deck il gun 24 con queste coil è una cosa che è micidiale cioè prende tanto liquido quello è vero secondo me questa boccetta da 30 la finisco in... non voglio dire una cavolata ma secondo me è nell'arco di una settimana che mi piace veramente tanto se lo voglio provare anche su altri atomizzatori magari la settimana lo provo anche sulla pico vedere un pochino come come si comporta anche con delle coil normali ma direi che comunque come sapore è molto accentuato perciò secondo me si riesce a sentire bene lo stesso cioè veramente veramente una cosa è squisito ok allora detto questo ragazzi purtroppo io non riesco a portarvi anche gli altri liquidi perché uno non erano reperibili al momento perché li avevano finiti e secondariamente io l'ho acquistato non me l'hanno dato praticamente in prova io sto facendo una recensione ma perché l'ho acquistato e l'ho acquistato da uno shop che ho scoperto ultime due settimane che l'ho scoperto di cui mi sono fornito anche la tesla che vi porterò il... se volete l'unboxing comunque vi spiego un pochino come funziona la tesla se siete interessati e cosa vi posso dire altro magari adesso vi lascio in alcune diapositive in giro dei vari liquidi diapositive di quello che può essere i Rui, il Sayuri, il Kirin e la Torianzo comunque e vi lascio le varie cose e poi mi fa piacere lasciare anche il link in descrizione del sito del negozio che si chiama Iposh ok di Casalecchio e vi lascio il sito internet nel caso che voi volete andare a dare una sbirciata vedere un pochino così vi lascio anche i vari social di cui andrei al proprietario che ringrazio per avermi consigliato questo liquido perché è veramente fenomenale insieme al suo staff e se avete intenzione di acquistare o roba del genere rivolgetevi direttamente a lui sui vari social secondo me vi riesce a venire incontro anche perché al momento non ha la possibilità di fare acquisti in internet o comunque per motivi vari che non ho ben capito comunque non voglio entrare in merito perciò nel caso siete interessati passate pure dai suoi social nella sua pagina Facebook, Instagram e comunque nel suo sito internet vedete tutto quanto ma un negozio veramente fornito oltre questo è uno di quei pochi negozi che hanno quei liquidi veramente speciali che magari in altri negozi non così tanto specializzati hanno ok? quindi ragazzi io vi invito a passare da tutti i social sia i miei che i suoi vi lascio il link per questa video recensione è tutto io vi lascio con una bella svapata praticamente tu tiri poco in bocca ti viene un canone di vapore è una cosa mostruosa mostruosa veramente allora ragazzi per questo video è tutto noi ci vediamo in una prossima video recensione e mi raccomando svapate